Chiederà un incontro all'assessore Arrame in presenza anche della direzione competente, la seconda commissione consigliare che si occupa di urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, viabilità, trasporto, edilizia residenziale pubblica e privata e illuminazione. La questione questa volta riguarderà il cimitero Angeli di Caltanissette ed in particolare la sezione interessata dal sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dalla stessa commissione, a seguito della segnalazione da parte di alcuni cittadini che lamentavano l'impossibilità di accedere nella zona e portare dei fiori ai propri cari defunti. Mi riferisco a una sezione, la 262 bis, nello specifico, dove c'erano delle transenne che impedivano questo accesso. Effettivamente le transenne sono state messe a tutela e a garanzia del cittadino perché le soffitta di questo, chiamiamolo tunnel, ma è un corpo interrato di un fabbricato, all'interno di questo tunnel ci sono i soffitti che sono ormai in uno stato veramente di pericolo perché gli indoneci caduti, ma addirittura anche le pignatte sono scoppiate e quindi è chiaro che è pericoloso poter fare fruire le persone cittadini. Era presente l'architetto armatore che è praticamente il direttore dei servizi cimiteriali e mi ha detto che chiaramente non è una spesa, non è un intervento che possiamo subordinare a una ordinaria manutenzione. Quindi contiamo di sentire il dirigente e l'assessore a ramo dei lavori pubblici perché si espleti una perizia in modo tale che si faccia luce e si cerchi di risolvere questo problema.